A secondo giorno di mostra, il Venezia 2014 entra subito nel vivo con i temi forti di questa edizione numero 71, così come li aveva annunciati il direttore Barbera. Passa in concorso questa sera il Pezzo della Gloria, film francese molto interessante, una commedia amara, soltata da una storia vera, due clown, due ultimi, due diseredati che nel 1977 tentarono il rapimento del feretro di Charlie Chaplin che era appena morto, per trovare una sorta di riscatto molto bello, è l'iraniano storie, che passa subito dopo in concorso, la regista dopo 8 anni è riuscita a realizzare questo film che traccia un percorso interessantissimo del proprio paese.